Ciao a tutti bambini! Faccio questo video per spiegarvi il lavoro che dovete fare sul vostro libro relativo a fabola oppure intreccio. Beh, allora, noi abbiamo sempre parlato dei testi e ci siamo sempre detti che un testo è composto da sequenze che inizia con un'introduzione, termina con una conclusione e all'interno ha uno svolgimento. Questo è vero, è anche vero però che ogni autore, ogni scrittore si sente sempre un po' un artista e quindi si sente anche libero di cambiare le regole a volte perché gli artisti hanno sempre un po' un'autorizzazione a cambiare certe regole. Si chiama licenza poetica. Per questo non è detto che i fatti in una storia siano sempre raccontati in ordine cronologico. Prima ve la leggo. L'anatra ferita. Da Castiglione. Luca e la vita nello stagno. Fabri. Che soddisfazione provava Luca. L'anatra tentava i primi passi. Iniziava a guarire. Stava facendo una passeggiata intorno allo stagno quando aveva visto un gruppo di canne agitarsi leggermente. Si era avvicinato pian piano senza far rumore. Lì, in un nido abbandonato, vi era una delle giovani anatre che erano nate in primavera. Luca si era accorto che l'anatra aveva un grumo di fango su un'ala. Si era chiesto se sotto il fango non ci fosse stata una ferita. Luca aveva sollevato dal nido l'uccello, che non aveva dato segni di protesta. Lo aveva portato a casa e aveva spiegato la faccenda alla mamma. Delicatamente la mamma aveva cominciato ad applicare impacchi di acqua bollita tiepida sul fango secco, finché piano piano l'aveva asportato. C'era un pezzetto di vetro infilato sulla punta dell'ala. Cercando di mantenere le mani ferme, la mamma aveva estratto con una pinzetta il frammento di vetro. Poi aveva ripulito la ferita sempre con l'acqua tiepida, questa volta aggiungendo un pochino di sale, che, si sa, fa da disinfettante. Bene, ecco questo breve brano. Alcune storie possono essere espresse in ordine cronologico e per questo, quando si trova un brano scritto in ordine cronologico, lo chiamiamo fabula. Mentre, a volte, l'autore decide di non seguire strettamente l'ordine cronologico, di cambiare alcune cose e andare un po' avanti e indietro nel tempo. Quando l'autore fa questo, lo chiamiamo intreccio. In questo caso, c'è un intreccio. Infatti, questa prima frase del brano, che soddisfazione provava Luca, l'anatra tentava i primi passi, iniziava a guarire. È una frase che in realtà dovrebbe andare alla fine, perché è la conclusione dell'avventura di Luca. È quello che accade all'anatra dopo che Luca l'ha trovata nello stagno, come dice qui, che stava facendo una passeggiata, dopo che Luca si era accorto che l'anatra aveva il fango sull'ala, dopo che Luca si è accorto del piccolo vetro incastrato nell'ala e dopo ancora che la mamma si è presa cura dell'anatra. Quindi dobbiamo sottolineare che questo pezzo di brano, in teoria, cronologicamente, andrebbe dopo. Ma noi capiamo comunque. Quindi un autore può prendersi anche la libertà di esprimersi in questo modo. Io potrei dire che brutta avventura che ho vissuto ieri, meno male che poi è finito tutto bene perché mio zio mi ha aiutato. E poi inizio a raccontare. Stavo andando a fare la spesa, quando ho incontrato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prima racconto quello che succede alla fine e poi racconto quello che succede anticipatamente, cioè prima. Ho fatto un intreccio nella narrazione e quindi non ho seguito la fabula. Quello che vi chiede il vostro libro è di fare un breve riassunto di questo brano senza copiarlo, riassumetelo, però riscrivendolo in ordine cronologico. Quindi non lo riassumete nello stesso ordine, ma lo riassumete seguendo la fabula. Io ho finito, era solo un breve inciso per spiegarvi meglio l'esercizio. Ciao bambini!